L'esperienza di Umami Train the Trainers è stata fantastica sotto tutti i punti di vista perché abbiamo toccato delle tematiche molto importanti sia per il coffee lover che per il coffee trainer quindi dalla chimica alla programmazione neurolinguistica all'estrazione all'analisi sensoriale che dire consigliatissimo ovviamente quindi un'esperienza fantastica. Umami Camp è un'esperienza straordinaria nel vero senso della parola cioè va al fuori dell'ordinario far condividere a delle coffee lover di ok insomma di livello alto quantomeno nel livello della passione dell'amore che hanno su questo argomento far condividere i giorni insieme e punti di vista diversi e aggiungere a queste esperienze che vengono da altri settori dal campo della botanica mi vengono a dire piuttosto quella della chimica da quella della salute direi che è qualcosa che di straordinario che va fuori dell'ordinario e che grazie a Umami abbiamo appena iniziato a fare. Umami Coffee Camp è stata un'esperienza formativa che mi ha arricchito sia dal punto di vista professionale che umano relazionale. Com'è stata questa settimana? È stata sicuramente una settimana formativa, è stata costruttiva, è una settimana all'insegna della condivisione, dell'amicizia, dello scambio di informazioni e di conoscenze, di esperienze. È stata un momento di generosità. L'esperienza al Umami Coffee Campus è stata sicuramente molto interessante e una possibilità di condivisione di informazioni utili per accrescere il proprio bagaglio culturale in merito al caffè di qualità e una possibilità anche di confronto con altri operatori del settore. Per questo la ritengo molto formativa e stimolante. Ho partecipato all'edizione di Umami Camp Trainer Trainers. È stata una settimana ricca dove ho rincontrato persone che già conoscevo e conoscevo nuove persone. Qui innanzitutto è stato un ambiente dove abbiamo sviluppato una sorta di comunità. La definizione è molto utile questa settimana perché mi sto approcciando adesso all'attività di formazione e so che ho molte carenze e questa settimana mia è utile per migliorare e imparare da persone che ne sanno più di me. Difendolo in tre parole e questa settimana la definirei coinvolgente, dinamica e utile. Questa esperienza con Umami Camp in dieci giorni, il Train the Trainers, è stata fantastica poiché abbiamo avuto in pochissimi giorni moltissimi trainer, delle persone super preparate in grado di fornirci delle informazioni molto utili per la nostra professione. L'evento Umami Train the Trainers Camp, ovvero sia una settimana dedicata alla formazione dei formatori per il caffè, è stato entusiasmante, interessante, ricco di spunti positivi, caffeinato, formativo, nuovo, innovativo, sociale.